bene allora nel settore modellistico perché tante volte la gente la gente ti guarda solo se guardi di se parli di ai fai e se anche se sei anche un disperato esaltato meglio ancora no perché praticamente vabbè io ormai non ho mai non mi sono mai esaltato nell'hai fai e non mi sono mai disperato ho sempre ascoltato la musica e per me l'hai fai non è altro che uno strumento per ascoltare la musica come esattamente quei signori la per il resto non sono un pluri esaltato come al giorno d'oggi no che la gente spende espande e non sa neanche perché compra certi apparecchi li compra solo perché fa comodo al bottegaio venderli allora nel modellismo che sono due tre giorni che mi sto praticando perché la mariella voleva il frate cercatore oltre al fatto che gli ho messo a posto un'anta che si era scollata della mamma della cucina e niente allora il modellismo si fa in due maniere o lo si prende in maniera un attimino seria oppure si fa così un po a caso allora se uno lo prende in maniera un po seria se fa modellismo ambientato praticamente in caseggiati in panoramiche in scenette in diorami eccetera 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 la fondamentale non è quello che create ma è la pavimentazione quindi io sono abituato a fare rappresentazioni che abbiano sempre terreno come base di partenza per far tutto cioè non mi interessano gli edifici architettonici non mi interessa non mi interessano quelli spaccati di paese o di città dove c'è solo cemento e basta quindi apprezzi in maniera più particolare le cose in cui ci sia terreno alberi vegetazione bosco eccetera eccetera quindi io mi preparo sempre le mie cose allora andiamo cominciamo là c'è col sughero mi faccio i vari cannellati e c'è un sughero diciamo che è prodotto in sardegna che tonalità un po più scura come questa qua e quella là e sugheri che provengono da altre parti che sono un attimino più chiari come quello o questo qui ecco poi io uso la segatura quella che che risulta da quando seguo le assi eccetera eccetera che la setaccio e la faccio diventare così ecco qua prendiamone uno a caso ecco qua bene poi uso i fondi di caffè eccoli qua poi sempre con quelle segature qua quelle più chiare mi faccio esattamente questo signore qua prendo sempre una vaschetta di quelle ci metto dentro un po di segatura a seconda di quello che mi serve ci metto dentro i colori marroni o verdi o quello che è li mescolo col colore acrilico di questi vasetti qua sotto ne avrò un 200 300 perché ho tutti i tipi di terreno anche rosso giallo per creare i fiori quando fai i diorami molto micro praticamente basta mettere un pellino di questi qui rosso su una basetta di 20 cm che se che quello è un fiore insomma ecco e mi creo queste essenze che non sono altro che questa segatura non tutta ne prelievo un po su un'altra vaschetta vuota ci metto il colorante con quei tubetti acrilici del colore che mi desidero di solito 3 4 tipi di verde e due o tre tipi di noce o di marrone poi l'impasto e dopo naturalmente siccome che ci metto anche un po di colla vinavil come questa eccola qua questa qua appena appena proprio una puntina poi li stendo su un piano e li lascio asciugare poi li sfrantumo e li polverizzo e li riporto ancora come se fosse quella polvere là però colorata che dopo vedete tanti video tutorial su come fare l'erbetta fatta da voi eccetera eccetera bene ora mettiamo in parte questo signore bene allora la mariella come abbiamo visto nell'altro video ha voluto il frate cercatore eccolo qua aspetta un attimo che alziamo un po il tiro di questo signore qua perché io sto usando un treppiede di quelli degli anni 50 ecco ha voluto il carretto del frate cercatore però ho messo così lo puoi mettere sul presepio lo puoi mettere dove vuoi però praticamente noi ci abbiamo fatto ieri abbiamo visto questo signore qua e tramite quello che abbiamo in giardino un po di muschio un po di sassetti un po di questa erbetta colorata di verde un po di tutte quelle essenze là un po di fondi di caffè eccetera 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 da questa basetta l'abbiamo fatta diventare questa basetta eccola qua e qui ci sono esattamente tutti gli ingredienti che abbiamo appena visto grumi un po più grossi di sughero grumi un po più piccoli sassi muschio che abbiamo creato i cespugli qualche sassoletto qua e là perché praticamente non è che nel 1600 ci passasse l'aratro e poi ci passasse praticamente la fresatrice che faceva tutti i lavori nel campo eccola in certi posti quello che si trovava c'era e rimaneva quindi di conseguenza qui abbiamo fatto questa basetta eccola qua e ieri l'abbiamo visto che era così e oggi è diventata così i sassi buttati lì un po' a caso ovviamente poi li ho incollati con la colla col pennellino con la colla vinavil stessa cosa ho fatto per l'erbetta stessa cosa ho fatto perché prima ho dato una mano abbastanza spessa di colla su tutto il tavolino quel tavolato poi ci ho passato sopra ingredienti medi come questo e quello lì poi ho fatto due o tre ciuffolotti di quello di graniglia un po' più grossa e poi ho come in questo punto qui in questo punto qui e in due o tre punti ci ho messo sopra un pochino di fondi di caffè in modo da dare le discrepanze di quello che è il terreno la 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 difformità diciamo morfologica del terreno no poi sono andato in giardino questo qui è un piccolo fondo un piccolo sottovaso ho raccolto un po' di sassolini possibilmente pietrisco un po' di muschio che ce n'ho abbastanza perché tanto qua è due mesi che piove quindi di conseguenza il muschio qui non manca di sicuro e abbiamo fatto questo signore qua adesso noi andiamo ad appoggiare sopra il carro ecco fatto e questa qui è la risultante poi se il carro verrà lasciato così andrà posizionato al centro se invece ci mettete un personaggio questo qui lo spostiamo leggermente più in qua più indietro e qui ci mettiamo il personaggio oppure lo mettiamo qua oppure lo mettiamo qui in procinto di salire sul carro o lo mettiamo qui in maniera che stia allestendo il cavallo oppure lo mettiamo qua davanti che imbriglia il cavallo a mano e passeggiano lui a piedi eccolo qua e quindi di conseguenza dobbiamo lasciare sempre delle parti che in questo momento sono morte che rasentano il terreno però a seconda della scenetta dobbiamo sempre pur lasciando l'uniformità di quello che è il terreno agricolo o una stradina di quelle che erano nel 1500 1700 insomma che oltretutto si è andati in mezzo ai campi ancora così in tante campagne lo trovate cioè non è che sia relegato il periodo del 600 o del 700 lo trovate anche adesso così in certi posti andati in montagna io vado sempre sul monte baldo qui sul lago di garda eccetera eccetera e quando cammino sugli alti piani praticamente mi si presenta così non è che sia tanto diverso allora qui ci mettete il frate cercatore nel caso di mariella con in mano un laccio di corda e tieni in mano in modo che il frate passeggi oppure se voi avete il contadino lo mettete qui così in modo che stia allestendo il cavallo oppure lo mettete in questa posizione in modo che sia in procinto di salire a cassetta per andarsene col carro oppure finché è in viaggio insomma ecco allora facciamo una piccola panoramica ce lo giriamo intorno ecco qua a mano qui non ci sono robe elettriche che fanno girare il carro e anche dalla parte opposta uno che se la vede anche dalla parte opposta non vede niente di anomalo come la scenetta è uguale identica non cambia nulla nel senso che da qualsiasi parte che voi la guardate la scenetta rimane inalterata ecco questo è il bello di fare le cose fatte bene pur nella sua semplicità ecco fatto bene abbiamo fatto la base che abbiamo visto ieri com'era abbiamo posizionato il carro adesso manca il frate la mariella provvederà a lei a prendersi il frate che desidera perché in tanti negozi o in tanti mercatini si trovano questi soggetti no allora importante è prenderlo altezza 12 cm perché nel ramo del modellismo lo trovate da 9 cm da 4,2 che sarebbe 1,43 lo trovate 54 mm che sarebbe scala 1,32 eccetera 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 quindi di conseguenza mariella sceglierà il personaggio che desidera l'ambientazione è creata e io ho concluso il mio lavoro ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti